Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Oggi vorrei parlare con voi di un film che sarebbe dovuto uscire quest'anno, quest'estate, ma per ovvie ragioni che tutti sappiamo a causa di questa pandemia è stato rimandato come tantissime altre pellicole all'anno prossimo. Il film di cui sto parlando è Ghostbusters Afterlife, titolo europeo Ghostbusters Legacy. Prima di cominciare però vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri della playlist Ghostbusters e perché no anche delle altre playlist, di condividere il video con tutte le persone che credono in spiriti, spiritelli o fantasmi, di commentare qui sotto con quello che ne pensate di quello che sto per dire. Ghostbusters, film del 1984 che è diventato un fenomeno mondiale. Una delle frasi Who You Gonna Call è diventata iconica nella cultura pop, non si riesce più a dire e che chiamerai senza che qualcuno risponda Ghostbusters, ha avuto un grandissimo successo anche tra noi figli degli anni 80, io sono nato nell'85, grazie anche alla serie animata The Real Ghostbusters. Io ricordo che già da piccolo, quando non capivo bene come funzionava il mondo cinematografico, il mondo del doppiaggio, però mi rendevo conto che una cosa che mi piaceva un sacco della serie animata The Real Ghostbusters era che i doppiatori dei cartoni, i doppiatori dei personaggi della serie animata erano stati mantenuti, ovvero erano gli stessi che erano presenti nel film dell'84 e nel film dell'89, che all'epoca, ma penso anche adesso, era una cosa abbastanza rara. Tra l'altro noi italiani siamo stati molto fortunati ad avere questo evento, anche perché in America gli attori non hanno di certo doppiato la serie animata The Real Ghostbusters, quindi gli americani si sono beccati altre voci, mentre noi abbiamo avuto le stesse voci. E quindi io pensavo, chissà se anche nel prossimo film, Ghostbusters Afterlife, ci saranno gli stessi doppiatori, manterranno gli stessi doppiatori che hanno mantenuto per i primi film, per la serie animata The Real Ghostbusters e anche per il videogioco del 2009. Ovviamente, purtroppo, per chi conosce il mondo dei Ghostbusters in modo approfondito, sappiamo già che la risposta è no. Perché? Perché molti doppiatori, i doppiatori principali, sono venuti a mancare. Vorrei fare con voi una lista dei doppiatori che ci sono stati finora in Ghostbusters e dei doppiatori che potrebbero essere i candidati ideali per il nuovo film. Cominciamo. Cominciamo con la bocca dei Ghostbusters, il capo chiacchierone che è Peter Winkman, interpretato da Bill Murray, è doppiato sia nel primo film che nel secondo film che nella serie animata The Real Ghostbusters da Oreste Rizzini, che molti conosceranno come la voce di Michael Douglas. Oreste Rizzini è una voce caratteristica per Peter Winkman. Onestamente io non riuscirei a mettere sul volto di Peter Winkman un altro doppiatore diverso da Oreste Rizzini. Ovviamente essendo venuto a mancare nel 2008, Oreste Rizzini non ha potuto doppiare Ghostbusters The Video Game, che è uscito nel 2009, che poi è stato rimasterizzato, anche se solo in inglese, nel 2019. Al posto di Oreste Rizzini hanno chiesto a Michele Gammino di fare la voce di Peter Winkman. Per darvi un'idea, Michele Gammino è la voce di Harrison Ford in Indiana Jones, in Guerre Stellari, per darvi un'idea. Una voce molto diversa che a me non è piaciuta molto sul volto di Peter Winkman seppur nei videogiochi. Dovete anche sapere, se alcuni di voi non lo sanno, che la serie animata The Real Ghostbusters è uscita anche su Netflix, ma come molti sapranno come funziona Netflix, purtroppo non sono riusciti a tenere il doppiaggio originale. Quindi hanno dovuto ridoppiare The Real Ghostbusters. Tra l'altro hanno ridoppiato solo la prima stagione per fare una specie di beta test, per vedere se i fan lo apprezzavano. Hanno fatto bene, perché a me personalmente le nuove voci non hanno convinto. La nuova voce di Peter Winkman nella serie animata The Real Ghostbusters, uscita per Netflix, è di Fabrizio Vidale. Fabrizio Vidale, per darvi un'idea uditiva, è la voce di Jack Black principalmente, che anche questa voce io non la sento addosso a Peter Winkman. Per Ghostbusters Afterlife potrebbero sfruttare ancora Fabrizio Vidale per dare una continuità col doppiaggio di Netflix, però si sa che spesso e volentieri chi doppia un cartone animato non gli danno anche lo stesso doppiatore anche nel film, seppure il personaggio è lo stesso. Un papabile, a mio modesto parere, è la voce di Rodolfo Bianchi. Rodolfo Bianchi è sempre la voce di Michael Douglas in film che sono venuti dopo la morte di Oreste Rizzini. Mi viene da pensare Ant-Man o Ant-Man and the Wasp, dove c'era Michael Douglas, era doppiato da Rodolfo Bianchi. La voce di Rodolfo Bianchi su Michael Douglas non mi ha fatto storcere le orecchie, quindi io penso che potrebbe essere benissimo adattabile anche allo storico, alla storica voce di Peter Winkman. Dottor Ray Stance, interpretato da Dene Croyd, che è anche autore dei Ghostbusters, è sempre stato doppiato dal fantastico Sergio Di Giulio. L'ha doppiato in Ghostbusters, in Ghostbusters 2, nella serie animata The Real Ghostbusters e nel videogioco del 2009, Ghostbusters The Video Game. Purtroppo anche Sergio Di Giulio ci ha lasciato l'anno scorso, di conseguenza è impossibile che doppierà Ghostbusters Afterlife. Anche in questo caso, anzi a maggior ragione in questo caso che non ci sono state altre voci per Ray Stance oltre Sergio Di Giulio, è difficilissimo pensare a chi poter affibbiare la voce storica di questo Ghostbusters. Io ho pensato potrebbero dare, giusto per sonorità con la voce originale di Dene Croyd, che noi italiani associamo, potrebbero affibbiarlo al doppiatore di Hellwood Blues, dei Blues Brothers, però purtroppo anche quel doppiatore è venuto a mancare nel 2013. Di conseguenza la scelta potrebbe andare su Leonardo Graziano. Leonardo Graziano è il doppiatore della serie The Real Ghostbusters uscita per Netflix. Per darvi un'idea sonora, Leonardo Graziano è la voce di Sheldon Cooper. Non è molto adatta a Ray Stance, però è già più adatta rispetto a un Michele Gammino, secondo me, su Peter Winkman. Perché no? Potrebbero farlo. Vedremo, se no se voi avete altre proposte scrivetemele nei commenti. Come sappiamo tutti Harold Ramis, interprete del dottor Egon Spengler, è venuto a mancare. Di conseguenza per Ghostbusters Afterlife, salvo che non ci siano dei flashback presi dai vecchi film, non dovrebbe servire il doppiatore di Egon Spengler. Però ci tenevo comunque a dirvi chi ha doppiato Egon Spengler in questi anni. Egon Spengler è stato doppiato in Ghostbusters 1 da Mario Cordova, in Ghostbusters 2 da Claudio Capone. Claudio Capone, come Oreste Rizzini, è venuto a mancare nel 2008. E nella serie animata, stranamente, è stato doppiato da entrambi. Nei primi 75 episodi di The Real Ghostbusters, Mario Cordova ha dato la voce a Egon Spengler, dal 75esimo episodio in poi Claudio Capone ha dato la voce a Egon Spengler. Nel videogioco Ghostbusters The Video Game l'ha sempre doppiato Mario Cordova, per ovvi motivi, perché appunto è uscito nel 2009 e Claudio Capone era già venuto a mancare. Ora, chiaramente, è molto probabile che non serva doppiare Egon Spengler, appunto, salvo che ci siano scene particolari di ricordi. Potrebbero usare anche il vecchio audio, ma ve lo dico, non lo fanno mai, quindi sarà dura che lo facciano. Concludiamo il quartetto dei Ghostbusters con Winston Zedmore. Winston Zedmore, anche lui è stato doppiato da due doppiatori. Da Massimo Foschi in Ghostbusters, da Gianni Bertoncin in Ghostbusters 2 e anche in The Real Ghostbusters. Gianni Bertoncin ha dato la voce a Winston sia in The Real Ghostbusters, perché è uscito prima, è uscito nel 1987, che in Ghostbusters 2, che è uscito nel 1989. Mentre riprende il ruolo di Winston Zedmore nel videogioco Ghostbusters The Video Game del 2009 Massimo Foschi, che io sappia non ci sono notizie su eventuale dipartita di questi doppiatori, quindi il ruolo di Winston Zedmore potrebbe andare entrambi i doppiatori. Non sono comunque giovanissimi, quindi starà al direttore del doppiaggio capire quale sarà la voce più adatta per questo personaggio. Stesso discorso vale per le due donzelle che ci saranno in Ghostbusters Afterlife. Mi riferisco a Gianni Menlitz, la segretaria dei Ghostbusters, che è stata doppiata nel primo film da Emanuela Giordano, nel secondo film da Cristiana Lionello e anche nella serie animata da Cristiana Lionello, mentre nel videogioco Ghostbusters The Video Game del 2009 è stata doppiata da Cinzia Massironi. La scelta sta anche qua al direttore del doppiaggio, alla disponibilità delle doppiatrici, quale voce dare a Gianni Menlitz in Ghostbusters Afterlife. Francamente non saprei dirvi nemmeno io qual è la voce più iconica. In base anche alla parte che avrà potrebbe essere più sensato dargli la voce di Emanuela Giordano o di Cristiana Lionello. La voce di Cristiana Lionello forse è più storica perché è andata anche nella serie a cartoni animati, ma questa voce scazzatissima che aveva Emanuela Giordano nel primo film è altrettanto memorabile, quindi bisogna un po' capire anche il carattere che avrà Janine nel 2021 e quindi quale voce affebbiargli in modo più corretto. Concludiamo con l'eterno amore di Peter Winkman, Dana Barrett o Dana Barrett a seconda del doppiaggio, che è stata doppiata nel 1984 in Ghostbusters da Livia Giampalmo e in Ghostbusters 2 da Melina Martello. Come voi saprete, Dana Barrett non è presente né nella serie animata né in Ghostbusters The Video Game, quindi abbiamo solo due doppiatrici, una per film. Francamente non ricordavo nemmeno che avessero due voci diverse a orecchio, quindi vanno benissimo entrambe le voci. Addirittura mi sbilancio sul fatto che potrebbero mettere una nuova doppiatrice, perché in base anche all'età potrebbero dare una voce diversa al personaggio. Fatemi sapere se voi avete un toto doppiatori su questo film, fatemi sapere se la vostra hype è aumentata adesso che hanno spostato il film di un anno o se invece non avete molte speranze sul film. Io onestamente credo che peggio del film del 2016, che comunque non esiste, nel senso che esiste in un altro universo parallelo, perché non collima con questo, non possono fare. Però, ve l'ho già detto, per me Ghostbusters 3 è Ghostbusters The Video Game, per me Ghostbusters 4 o Ghostbusters la serie è la serie a fumetti della IDW, quindi ho già il mio sequel, l'ho avuto, me lo sto godendo leggendo i fumetti, che sono in continuo con i primi due film. Questo film, che è ambientato nel presente, perché no, potrebbe soddisfarmi, ma ne dubito molto. Io credo che l'operazione si atta a rilanciare un franchise in cui delle nuove leve, tra cui il personaggio di Paul Rudd per esempio, prendano in mano gli zaini protonici e rilancino l'attività commerciale dei Ghostbusters. Io Paul Rudd ce lo vedo bene come un ipotetico nuovo Peter Winkman. Ripeto, avrei preferito a sto punto un reboot in cui avessero mantenuto i personaggi e i loro caratteri a discapito degli attori, ma purtroppo in America non c'è questa concezione, non riescono a separare l'interpretazione degli attori come Bill Murray, come Danny Croyd, come Harold Ramis e come Winston Zedmore, dai loro personaggi. Perché? Perché erano comunque comici del Saturday Night Live, il film è stato molto improvvisato dal punto di vista delle battute, sono state improvvisate molto sul set e quindi la verve del personaggio è dovuta alla bravura degli attori. Quindi in America non riescono a scendere le due cose e quindi per questo motivo noi non avremo mai, ma anche in Italia, la pensano allo stesso modo, per questo motivo noi non avremo mai un reboot di Ghostbusters con Peter, Ray, Winston e Egon interpretati da altri attori. Che poi non per forza io vorrei un reboot, in realtà io vorrei un Ghostbusters 3, come nel videogioco che è ambientato nel 92, quindi qualche anno dopo la storia di Vigo il Carpatico, in cui i Ghostbusters continuano la loro attività e sono interpretati da altri attori. Tanto la voglia di vintage sta spopolando, lo vediamo da serie tv come Stranger Things, dove comunque è pieno di film ambientati negli anni 80, negli anni 90, quindi perché no, potrebbero farlo, però appunto per questo motivo di non riuscire a slegare l'attore dal personaggio, Ghostbusters non ha questa visione da parte dei fan. Bene, io ho parlato anche fin troppo, per questo è tutto, per questo video è tutto, io vi saluto come sempre con l'inchino e con l'imbuto e vi dico arrivederci al prossimo video.